Come si calcola la media ponderata all'interno di Excel? Vediamo il vecchio sistema e il nuovo sistema che ci permette di calcolarla con una singola funzione. Allora, per calcolare la media ponderata bisogna fare il prodotto tra quantità e prezzo e va fatto per ogni singola riga. Quando abbiamo ottenuto questo risultato dobbiamo dividere la somma del nostro prodotto diviso la somma della quantità. Ecco qua la formuletta, somma di prodotto diviso somma di quantità. Così otteniamo la media ponderata. Ma come facciamo a fare questa operazione senza questa colonna d'appoggio? È molto semplice, utilizziamo le funzioni matrice. Bisognerà fare matr.somma.prodotto colonna D e colonna E lui che cosa fa? La moltiplicazione riga per riga di quantità e prezzo e poi la sommerà, quindi se la mette in memoria. Dopodiché basterà dividere per la somma della quantità e così facendo avremo ottenuto lo stesso identico risultato ma utilizzando una singola formula e senza colonna d'appoggio.